Circa 15.000 pellegrini hanno partecipato a San Giovanni Rotondo alla veglia all'aperto in ricordo del transito al cielo di Padre Pio da Pietrelcina, ora santo, avvenuta il 23 settembre 1968. La veglia si è svolta come di consueta sul sagrato della chiesa dedicata al santo con le stimmate. Ieri mattina il cardinale George Pell, prefetto della Segreteria per l'Economia della Santa Sede, già arcivescovo metropolita di Sydney in Australia, ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica. Prima della cerimonia religiosa, Pell ha percorso la rampa decorata con mosaici che porta alla tomba di San Pio rendendo omaggio al frate Cappuccino. Il cardinale è poi tornato, sullo stesso luogo a conclusione della concelebrazione, incenzando la tomba e dedicando un momento di preghiera. Nel pomeriggio di ieri nella chiesa di San Pio è seguita un'altra concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Manfredonia, lieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Michele Castoro. Al termine è partita la processione per le strade di San Giovanni Rotondo, nel corso della quale è stata portata a spalla la statua del santo, benedetta nel 2011 dall'attuale Papa Emerito Benedetto XVI. Un invito diretto a Papa Francesco, perché si erichia a San Giovanni Rotondo, lì dove riposa il corpo di San Pio, è stato rivolto dal guardiano del convento dei frati minori Cappuccini, fra Francesco Langi, al cardinale George Pell. Fra Langi, anche a nome del vicario provinciale dei frati minori Cappuccini, ha chiesto al cardinale di farsi portavoce della richiesta dinanzi al pontefice.